Aquilani, errore ancora, attenzione a Movsisian, che evita storia, Movsisian, carica al destro ed è il vantaggio dell'Armenia. 4 minuti 50 secondi, peggio di così non avremmo potuto cominciare. No, sembra la continuazione della partita precedente. Purtroppo, abbiamo detto, noi stiamo preparando un mondiale, è vero qui siamo qualificati, loro hanno poche chance, però anche da queste piccole cose. Non c'è un discorso della testa di serie da difendere. No, ma assolutamente, è un discorso che però qui dobbiamo solo continuare a mostrare consistenza, essere presenti perché non abbiamo l'interruttore, non siamo capaci di prepararci. Siamo maestri in questo.